pizza e cinema il podcast in cui mentre aspettiamo la pizza parliamo di cinema e serie tv queste pizze cinema lo show dove mentre aspettiamo la pizza che comunque non arriva nei studio né tanto meno a casa parliamo di cinema e stasera con noi come dicevo c'è super violetta ciao violetta io ho un'idea visto che noi non siamo in ufficio e visto che non possiamo ordinarla tra di noi ordiniamo la violetta vai io credo colpo di scena finalmente basta guardare voi che mi mangiate la pizza in margherita te va bene alla grande la mia preferita io adesso ti dico ti dico il tuo indirizzo tu me lo confermi trovi non farmi cambiare casa dice che non succederà vabbè ragazzi volete sapere dove abita violetta ve lo possiamo dire ma io vorrei innanzitutto dire che vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che si sono abbonate sto vedendo che è partito anche live train per esempio ringraziamo gianni darì che dice che bello abbonarsi che sono io poi abbiamo ma non ti volevi ringraziare da solo diciamo ai 91 e tutte le altre persone che si sono abbonate e continueranno ad abbonarsi come dice marco cioni voi siete la benzina per questo canale vi ricordiamo che questo episodio andrà anche in podcast domani e per conoscere approfondire tutti i link state ascoltando il podcast andare in descrizione trovare tutti tutti io vorrei incominciare un qualcosa che non è una vera e propria news ma più che altro qualcosa che è uscito molto di recente quindi eviteremo di fare spoiler quello parlare di stranger things 4 io guardarla proprio ieri tutto tutto e volevo sapere un po che cosa ne pensate so che se andate sul canale di violetta però provate il video è uscito oggi proprio riguardo stranger things 4 quindi violetta magari riassumici in modo tale che non squadra di tutto il video una persona poi se lo può andare a vedere però più o meno per capire se ti è piaciuta che cosa non ti è piaciuto perché proprio non ti è piaciuta anche perché sono 34 minuti dei video io però 34 minuti di video che sono interessanti lo spero insomma lo spero giudicherà e giudicherà il popolo il popolo comunque in generale non faccio assolutamente spoiler quindi state tutti tranquilli tranquille e poi la parte spoiler la trovate nel video se la volete guardare anche nel video c'è parte non spoiler e parte spoiler a me in generale devo dire che è piaciuta molto in linea generale l'ho apprezzata sono arrivata alla fine della visione che ero contenta di averla vista secondo me è una tra le migliori tra l'altro anche stilisticamente come come serie come stagione scusate precedentemente la mia preferita era la seconda però devo dire che la quarta gliela molla registicamente è davvero molto molto ben fatta secondo me c'ha delle chicche che sono picchissime e però devo dire che anche i suoi contro tra cui secondo me e so che su questo non siamo tutti d'accordo anche confrontandomi con la mia community eccetera per me è stata un po' too much è stata un po' troppo e io devo dire che è vero che me la sono dovuta sparare in due giorni l'ho dovuta binge watchare perché dovevo portare i contenuti e quindi mi sono dovuta sbrigare però comunque è un binge watching da un'ora e un'ora e mezza un'ora e quaranta una dietro l'altra e si arranca devo dire si arranca se avessi potuto guardarla con più calma forse l'avrei apprezzata di più però devo dire che forse avrei apprezzato di più anche se ci fosse stato un pochino più di lavoro di passatemi il termine editing da parte della produzione che su alcune storyline credo che abbia aggiunto delle sequenze che ai fini della storia poi erano superflue e quindi che hanno appesantito in un certo senso non che non fossero piacevoli però poi alla fine non non erano utili al racconto e forse è stato fatto perché comunque adesso i duffer brothers al punto in cui sono arrivati con stranger things con il successo clamoroso che ha avuto questa serie gli hanno lasciato ancora più carta bianca a poddarsi e quindi loro hanno proprio fatto tutto quello che volevano come magari gli autori spesso succede che fanno un po più di difficoltà a sacrificare delle parti del loro lavoro no ci vuole sempre quell'occhio esterno che da un taglio di produzione un taglio editoriale che sia un po più fruibile dal pubblico però questa questa questione in generale per me è promossa comunque mi è piaciuta molto ecco io sono d'accordo con te credo che la lungaggine sia magari stata utilizzata da netflix come mero espediente di marketing perché sicuramente cioè capita molto spesso che si gira molto più del necessario e poi si va a ridurre tempistica no una puntata di una serie tv dura 50 minuti 52 minuti non a me negli ultimi anni non succede che dura di più secondo me questo ora è 18 perché la maggior parte in media sono un'ora un quarto un'ora e diciotto alla fine è stato un mero soltanto una mera trovata di marketing nel senso vabbè senti guarda lasciamo tutto arriviamo un ore 20 per poi arrivare addirittura nella seconda parte che uscirà il primo luglio l'ultima puntata dura due ore e mezza 45 mi va letteralmente un film ma anche di quelli belli grossi capirlo bello carico non c'è dura letteralmente con film per questo quindi anche interrompere invece che darti tutto un blocco ma dartelo in due blocchi differenti secondo me marketing quindi il fatto che duri di più è il fatto che questo gli possa permettere di spezzare la serie in due in modo da poter creare live da adesso fino a quello che è l'uno luglio quindi c'è un mese che non è tantissimo un mese però ecco il tempo abbastanza giusto per poter farne parlare in giro magari no il famoso tizio va beh ma io non l'ho mai vista e stiamo aspettando tutti la fine quindi boh magari la vedo tra l'altro anche dentro studio c'era gente che non l'aveva mai vista che dato che ne stiamo parlando ovviamente studio perché in generale è piaciuto a tutti tranne a matteo bruno ma in generale è piaciuto a tutti dato che ne stiamo parlando ovviamente per esempio mauro un altro ragazzo non mauro zingarelli l'altro mauro diceva beh io non l'ho vista però mi state facendo venire la curiosità quindi visto che ancora non è finita ci vuole un mese magari ci arrivo e quindi mo se la va a vedere chissà quanta gente magari si farà l'abbonamento per questa cosa quindi secondo me è solo marketing ti aggiungo un'altra cosa sul tuo discorso del marketing su cui sono d'accordo leggevo in giro e l'ho trovato un punto di vista interessante il fatto che è una questione di marketing anche proprio legata alla durata di queste di queste puntate perché lì c'è un po ultimamente questa idea che il film che dura molto a lungo quindi che buca le due ore eccetera abbia un valore maggiore come prodotto perché di solito questo sotto intende una grande produzione quindi un grande investimento di soldi e tutto il resto quindi un po come lunghezza uguale eventuale sinonimo di qualità nel cinema anche se poi questa cosa non è sempre vera anzi assolutamente e questa cosa negli ultimi anni essendo che le serie tv stanno diventando alcune arrivano a livello cinematografico mi sento di nominare better console perché secondo me è una serie che cinematografica registicamente a livello di qualità eccetera questa importanza che si sta dando al mondo seriale e che sta avendo il mondo seriale abbiamo notato che ci sono delle serie che magari nelle ultime puntate tipo l'ultima la penultima come finale di stagione fanno una maxi puntata capito e qui hanno fatto proprio una maxi serie con ultra maxi puntata finale da due ore e mezza che quindi è diventata veramente una serie colossal come possiamo considerare colossal magari ben urre capito perché per dire c'è un po quella sensazione quella cosa lì sono lunghe quindi sono belle quindi vedetele guardate che abbiamo creato d'accordo come dicono in chat comunque rimane una serie super piacevole nonostante le puntate lunghe sono assolutamente d'accordo come diceva prima il problema del doverla vedere di corsa nel suo caso e tanti altri poi alla fine la vediamo di corsa perché ti piace e quindi stai attaccato vedendo determinate cose stanno un po nell'ambiente ti rendi conto che però sto dialogo è abbastanza inutile cioè nel senso la scena che dura cinque minuti potevano pure levarla st altro blocco è già detto lì non serve però dando da dato che volevano sicuramente dare quell'impressione che dice violetta e se la sono giocata così anche perché ormai comunque tra netflix tra in video e chi più ne appena metta se stanno cominciando a scannare ovviamente per la notte se devono farlo la lotta è bella e quindi infatti sono appena uscite pure le prime tre puntate di the boys secondo me non a caso sono uscite poco qualche giorno dopo dell'uscita di stranger things eccetera cioè tutto studiato e quindi quelli dice ok allora fa una cosa grossa cioè si scannano ognuno deve fanno un po a chi ce l'ha più lungo nel vero senso della però io dico però se secondo me secondo me ha senso il tuo ragionamento adesso probabilmente proprio quello perché col mese di buco mettiamola così poi c'è chi se la recupera magari l'intera serie però effettivamente io all'inizio mi chiedevo ma perché non fare un rilascio settimanale perché comunque saremo arrivati alla fine all'inizio luglio a vedere le ultime puntate e stai live come come lo crea marvel no che tutto il mese si parla di quella roba ci ho pensato è vero che stranger things è potente da sé comunque a prescindere non è una serie che finisce nel fast food di netflix perché è già potente a prescindere però forse valeva la pena farla rilascio settimanale ma evidentemente avranno pensato c'è di boys ma a parte questo inserisco dicendovi che purtroppo netflix ha un tipo di messa a disposizione delle proprie serie c'è netflix ha inventato un po il modo di binge watchare le serie nel senso che mettendola tutta la disposizione è proprio quello stilema caratteristico di netflix anche se per alcune serie fa delle eccezioni tipo batter col sol però in generale netflix è sempre stata quella piattaforma che la rilascia subito perché però ha voluto a dividere in due parti per me volevo dire questa cosa perché è un di petto parte con la lunghezza come dicevi tu violetta una cosa che mi ha dato molto fastidio è il finale perché non è un finale finale ma non è un finale è però non è il finale sarà la fine però mi sarei aspettato quantomeno un mid season cioè un finale cioè sai le serie molto spesso non è una pratica nuova il dividerlo in prima e seconda parte ma di solito quando fanno questo genere di cose comunque chiudono determinate story line o comunque le portano a una vera e propria conclusione e restano lasciano aperte magari quelle principali che poi potranno condurre la serie in determinato finale vero e proprio e a me questo mi è mancato perché l'ultimo episodio per quanto molto bello mi ha proprio spiazzato perché dice vabbè e quindi modo che aspetta un mese nel senso non chiude nulla tiene tutto aperto praticamente la scelta perché non è studiato per essere un mid season esatto e infatti secondo me non è proprio studiato per il tipo di ricordi breaking bad sì come no c'è king ed è stata spezzata in due è stato studiato di spezzarla in due questa non è stata studiata spezzata in due semplicemente molto probabilmente a una certa hanno deciso di tenere le puntate più lunghe proprio per motivo di marketing e poi una certa si sono detti stacchiamo qua e le ultime le tiriamo dopo un mese ma è marketing e sole spiega ma infatti secondo me l'altro motivo per cui hanno fatto questa scelta è oltre per attrarre il nuovo pubblico ma per far continuare a parlare di sé cioè di solito comunque per quanto stranger things come detto tu violetta è molto importante attirati comunque tantissimo il fatto che la stagione venisse rilasciata tutta di bot quindi tutti noi la vedevamo nel giro di massimo una settimana dieci giorni per evitare spoiler automaticamente sia si va anche ad esaurire il chiacchiericcio attorno a questa serie perché è tutto subito capito già su tic toc quando due tre giorni fa sono iniziati a cominciare i primi trend riguardo serie team nonostante non l'avessi finita di guardare e in questa maniera dividendo la hai questo mese dove tu verrai tartassato da persone che parlano ancora di stranger things proprio perché c'è una vera e prova in questo il finale è molto giusto ti lascia con questo bellissimo cliffhanger per quanto un po prevedibile nel senso che non è nulla di mega eclatante però molto molto interessante senza contare come dice jake reale ciao jake che anche banalmente per fartelo pagare due mesi l'abbiamo solo che scavo tasse proprio mamma mia benzi se ti vuoi vedere la fine della serie devi aspettare l'inizio di giugno e quindi l'altro mese vabbè incominciamo con le nostre notizie ma allora abbiamo parlato di stranger things ma adesso andiamo a quello che è successo durante questa settimana incominciamo da una bella notizia che riguarda il mondo marvel ha allora in particolar modo guardieri della classe volumetri in un video qualcuno che si lamenta del fatto che io ti prendo in giro quando si parla alla marvel e poi sono contento quando si parla di stranger things e soprattutto top gun ma ragazzi vogliamo mettere un qualsiasi di marvel con top gun per favore andiamo avanti allora che cosa è successo questa settimana tramite twitter è arrivata la conferma da james gunn che daniela melchior per chi non la conoscesse non è una attrice estremamente famosa ma è stata red catcher 2 in the suicide squad il scorso film di james gunn per casa di si farà parte è entrata a far parte del cast di guardiani della galassia volumetri era stato rumoreggiato che ci potesse essere lei come un determinato personaggio che adesso non ricordo ma esatto ma è stato anche confermato che non sarà quel personaggio lì ma ci sarà comunque lei nel caso io vi chiedo innanzitutto avete visto dei sui squad vi è piaciuta la sua interpretazione quindi avete buone aspettative per questo quaderno ragazza volumetri ma soprattutto che vuole potrebbe svolgere farà parte dei guardiani che cosa potrebbe fare io ho una mia teoria ma volevo sentire prima le vostre iniziamo da giovanni giovanni si è piaciuta di violetta prego perché guarda non basta quindi prego il profettore interproca comunque mi sono sentiti non l'ho visto perché non mi interessa e guardiamo interessa vagamente di più ma proprio giusto un attimino quindi mi ha detto che verrà al cinema con noi a vedere dipende dal trailer dipende sempre di di gun sempre di gun e il primo guardiani della galassia l'ho trovato carino il secondo abbastanza noioso in realtà non mi è piaciuto ma il secondo periodo di più però con tutto sommato guardia nella galassia si lascia guardare e carichino va bene io nevole autore tutti voi d'autore l'abbiamo capito perché sai cosa però voleva venire tai kawai titi è qua no perché tor lo vent'anda era una porcata però dicono tutti così diverso tai kawai titi capito cioè lui è più per quelli un po storici no finita e mi james che anche hanno una traduzione già consolidata relativamente nuovo diciamo non è che non mi è piaciuto te l'ho detto è un film che non si accolla alla sua idea geniale dopo 15 minuti cioè dopo 15 minuti diventa un normalissimo film di guerra violetta vai dimmi tu che cosa ne pensi di questa bella ea me era piaciuta nel ruolo di red catcher in the suicide squad insomma ti dico la verità all'inizio ho visto l'attrice nelle foto ho detto ma questo è il caso quasi perché poi c'è harley queen e che ovviamente opusca tutti quanti e tutte quante però poi marco robbie però poi quando sono andata a vedere chi era fatto era quella che era la pifferaia magica dei topi ho capito mi sono ricordata e la sua storia era anche molto commovente tra l'altro suo padre lo interpretava taika white è tutto è tutto un famiglia è tutto un magno non ho idea di che cosa però potrebbe interpretare sono sincera non conosco abbastanza i fumetti quindi qui neanche io ora ti dico a livello di ruolo secondo te potrebbe essere perché per me io ve lo dico secondo me sarà il cattivo so che tutti quanti pensano che il cattivo potrebbe essere questo adam warlock che ti ricordi già vediamo non mi ricordo come si chiama l'attore ma comunque è un attore abbastanza noto che lo interpreterà ma vi dico che adam warlock di base nei commenti è buono quindi potrà essere secondo me la storia sarà incentrata sul fatto che ci sarà questo da murlock e che li caccia in qualche maniera perché li terrà responsabili per qualcosa poi a un certo punto si alleeranno e combatteranno il vero cattivo che penso sarà interpretato da lei però vedremo meglio idea di che tipo di cioè conoscibile in dei guardiani della galassia quindi no purtroppo no perché il dal punto di vista universale la marvel la conosco molto meno rispetto dal punto di vista terrestre quindi non ho proprio idea di che cosa potrebbe interpretare poi c'è totalmente tante di roba cioè banalmente solo te la butto lì potrebbe essere una coscienza di adam warlock cioè la saga dell'infinito a livello di fumetti si divide in tre volumi che è il guanto dell'infinito no scusa in fin si infiniti gantlet infinity war e sic sacred war ok in infiniti gantra eccettano se lo schiocco di dita nel infiniti war ci sta la coscienza cattiva di adam warlock che si divide dal suo corpo che si chiama il magus quindi combatte contro questa cosa qui nel terzo che è una bellissima storia marvel devo dire forse tra queste tre quella che mi piaceva di più c'è la coscienza buona di adam warlock che deve che combatte contro tutti gli altri perché vuole tra virgolette purificare l'universo dal male quindi potrebbe essere anche una cosa del genere è l'unica cosa che mi viene in mente visto che c'è adam warlock ma vedremo non mi ricordo che si chiama il personaggio però clippate che giovanni perché le sue espressioni tutto a parte che ovviamente non conosco quel mondo dei fumetti eccetera è veramente supererò me ne frega poco e niente però c'è il motivo per cui non seguo tanto questo tipo di news è perché non mi attirano nel senso questo attore x entrerà nel mondo di questa saga qui questo film qua è ok quando poi è scelta bene panno interpreta c'è capito non non ha un minimo interesse per aspetta dovrei avere va bene pallo esatto va bene pallo non mi crea loro fanno mettono tutte queste notizie per creare hype per cominciare a parlare di quella roba lì eccetera per esempio c'è qualcuno che dice samu 02 che dice la melchior sarà anche in fast and furious fast and furious io lo guardo perché mi diverte però non mi vado a cercare ma lei chi sarà mai in fast and furious me frega un cazzo quando esce il trailer di fast and furious vediamo che cavolo fa fine certo certo vabbè comunque il personaggio si chiama l'atea sarebbe molto picco io ve lo dico in generale è una bella è veramente una bella storia da recuperare per direttore di no per tutta la saga dell'infinito è però questa in particolar modo è quella che metterà di più andiamo avanti ma parliamo di una notizia invece che a giovanni sicuramente mi piacerà tantissimo in realtà più a mauro questa questa piacerebbe tantissimo ma sono iniziati ufficialmente le riprese del sì quelle realtà prequel di mad max ovvero furiosa interpretata da ania taylor joy è stata messa la prima la foto del chat per mettere in evidenza che sono iniziate queste riprese e io sono mega infissa soprattutto per questa foto a ania delle gioiche questa foto però nasconde un'altra cosa e io non so e qua qualcuno forse in chat se c'è più esperto di me probabilmente ci potrà chiarire violetta pure tu dimmi che ne pensi qua sopra c'è scritto 35 mm significa che lo stanno a gira in pellicola dici può essere perché mettere 35 millimetri così in evidenza sul chuck potrebbe essere potrebbe essere una roba è così minchia allora miller e pazzo questo lo sappiamo benissimo che miller un personaggio pazzo non so fra l'altro se avete visto il trailer del nuovo film di miller è una roba fuori di testa non mi ricordo il titolo perché complicatissimo ma il trailer è una roba assurda e miller è fuori di testa questo lo sappiamo chissà se quel 35 millimetri messo lì che ormai non si mette più sui chuck non c'è bisogno più di mettere 35 non si mette sul giac quella scritta lì chissà se significa qualcosa anche perché hai ragione cioè miller è stato sceneggiatore regista di capolavori come baby il maialino coraggioso come dice castissimo a castissimo e uno che ne capisce queste robe infatti aspetta speravo in lui dice è la lente usata in quel team a ok quindi coincidenza 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 potrebbe comunque a 35 mm giusto giusto la lente sono partite in ogni caso in ogni caso sono partite le riprese e la data di uscire che sarebbe il 24 maggio 2024 quindi tra ben due anni ragazzi non vedrò di vederlo soprattutto perché c'è anna te lo joy sono sincero per me anna te lo joy è di una bellezza anna te lo già billy sarmante voglio far notare a tutti come charlis terrona pelata e con un braccio solo era comunque no no figurati figurati voglio voi lo aspettate che ne pensate che cosa ne pensate magari anche del casting come la vedete anna te lo joy a fare curiosa giovane curiosa ma io sono una super fan diciamo della di mad max in generale avevo visto il primo e sicuramente vedrò anche questo perché il fatto che sia una storia dedicata al personaggio di curiosa mi mi intriga molto quindi mi interessa molto sono curiosa di come verrà scritto e tutto il resto quindi sicuramente incuriosisce la voglia magna pagnotte perché mancano due anni penso che andate d'orgio sia molto azzeccata a parte che adesso è proprio sulla cresta dell'onda quindi è un po il suo momento di espluare hollywood però poi lei ha un viso incredibile cioè lei ha degli occhi magnetici è molto intensa quindi secondo me per fare un personaggio come l'abbiamo visto fare a charlie strong precedentemente che è quello di furiosa che un personaggio molto particolare secondo me lei è veramente giusta per la parte cioè il suo viso secondo me ci sta di brutto e e quindi apprezzerò poi non so se in un prequel il personaggio di furiosa sarà anche in quel caso rasata oppure se avrà i capelli con una look diverso lo vedremo però ecco io me la immagino anche rasata un anna taylor joy secondo me ha un viso così pazzesco che anzi verrebbe ancora più fuori e quindi spaccherebbe diciamo quindi secondo me già il casting è ottimo quando io ho letto che c'era che è stata scelta lei ho detto perfetto è proprio giusta secondo me poi è brava quindi sicuramente sarà anche convincente raggiungere che nel caso ci saranno anche chris hemsworth e yahya abdulmatin secondo quindi comunque dei comprimari che sono anche loro hanno un certo star power ma team soprattutto negli ultimi tempi lo sta ne sta acquisendo chris hemsworth insomma lo conosciamo da più tempo quindi penso proprio che in questo film ha il potenziale per fare veramente il botto anche perché anna taylor joy è molto molto amata sia dal pubblico maschile che dal pubblico femminile perché insomma i ruoli che sceglie poi sono estremamente interessanti quindi veramente questo film potrebbe fare il botto al cinema sì io penso che riguardo la natatura credo che arriveranno il momento del finale è proprio sai quel concetto di maschera definitivi famoso così come definitivo e lei che immagino già questa sequenza di lei che è benissimo c'è una roba tipo alla moulin degli anni potenziali se succede questa cosa è veramente curiosa perché comunque anni e dell'orgio e basa molto tutto anche su sulla sua capigliatura non sul suo biondo esagerato tranne per la regione indossava una parrucca però c'è un suo viso particolare anche quel biondo quindi infatti legge un po di tempo fa ma che fa se la colla che fosse rasa a zero anche secondo me sì fra l'altro da questa cosa ti ricordi quando c'era di per vendetta che fece scalpore il fatto che natalie portman si fece rasare a zero che fra l'altro è natalie portman ha rasato a zero per vi per vendetta è l'immagine che fecero vedere a alla protagonista bobby brown per rasarsi a zero che lei non voleva gli hanno fatto vedere quell'immagine li ha detto lei se l'ha accollata per il film e allora mille bobby brown ha accettato di farlo tra l'altro due volte che l'ha toccato anche per quest'altro giro mi è ritoccato e guarda io mad max è arrivato comple è stato un fulmine totale a ciel sereno come si può dire perché mad max conoscevo quello come il gibson ovviamente che vivi da ragazzino e sono andato a vedere questo perché dai andiamolo a vedere perché il trailer era molto bello e al cinema sono letteralmente impazzito quando ho visto mad max perché è sai quando si parla di cinema di intrattenimento no c'è claretta una amica di gianni una nostra amica che ogni volta che gianni mi dice andiamo a vedere una roba della marvel claretta mi dice sempre ma devi andre immagina che stai andando al parco giochi no a divertirti per me il parco giochi a divertirmi a una roba tipo mad max cioè quello è stato proprio una giornata al parco giochi una roba la storia molto semplice però è stato pazzesco visivamente vent max è incredibile e non vedo l'ora di vedere il prequel di mad max assolutamente poi mettici ania de lor joy mettici l'altra volta c'era megan gale è stata ritirata fuori tu violetta non ti ricordi che era megan gale in italia certo che mori costo mi ricordo a un certo mercato tutti i natali con la chrismascara ma appare statizia io questa me la ricordo perché me la ricordo certo punto martina che era come la mia compagnia mi sa che quella è megan gale e cazzo dice l'hanno tirata fuori da naftalina che erano anni ed era megan gale poi il chitarrista impazzito messo la sopra come scrive berto benox lì chitarrista che sembrava faceva tanto eddi degli ero maiden la mascotte degli ero maiden il kit c'è bellissimo se non vedo l'ora vedremo vedremo non aspetta da due anni ma andiamo alla nuova una notizia invece molto più attuale perché parliamo di top gun e volevo dire anche io qualcosa ricordo che ho visto che giovanni la trotta l'aveva visto e tanto ne ha parlato bene che sono andato a vederlo ma comunque prima di parlare del mio giudizio che non prega a nessuno volevo parlarvi degli incassi perché sta segnando dei veri e propri record togare i cento regioni in particolar modo sta andando molto bene in generale al cinema e questo ve lo confermo io è andato un lunedì dove pensavo che non c'era nessuno la sala piena piena come poche cose ma è stato il film di tom cruise che ha incassato di più al botteghino per i primi giorni quantomeno e infatti come riporta variety non aveva mai superato i 100 milioni nel primo weekend il film di tom cruise questo film qua invece è riuscito a raccogliere 124 milioni di dollari e in generale io vi dico che sono tutti meritati perché è un film adesso ne parlavamo prima di mad max è su quello stile lì una storia semplicissima ma girato in una maniera talmente tanto interessante e avvincente e raccontato anche in maniera interessata certo registicamente raccontato che ti trasporta in questo turbinio e tu non vedi l'ora di salire su uno di quegli aerei che pilotano loro è veramente veramente molto c'è ti cattura proprio è un film che ti cattura come posso che mi riescono a fare giustamente come dice niclac è l'ennesima prova che quando un film lo fai bene la gente al cinema ci va esatto perché allora su questo film non ci scommetteva nessuno ma neanche la produzione in generale ci scommettevano perché erano convinti ovviamente che è un sequel di top gun potesse prendere interessare solo un pubblico dai 30 anni in su no perché è un film ovviamente che si basa sul successo del primo che so che a molti non non è piaciuto io ho adorato il primo top gun pazzesca direttore mio cugino è diventato pilota dell'aviazione perché si era era impazzito con top gun è stata la scintilla come si sol dire e quindi era è stata una vera scommessa ed essere arrivati a questo punto è perché il film è girato benissimo con delle robe cioè ragazzi ci stavano come abbiamo detto l'altra volta gli attori stavano sugli aerei ci stanno sei telecamere imax puntate sulla faccia di questi tizi quindi tutte le scene che sono dentro gli aerei sono reali cioè i primi piani degli attori sono reali sono dentro quei cazzo di aeroplani che vanno a x g a velocità pazzesca hanno fatto tutto un allenamento per arrivarci eccetera eccetera abbiamo già detto che poi allenamento tra parentesi non a caso ma come violetta ha capito da un video che gli ho mandato direttamente pensato dato un cruise un cruise esatto perché quello è pazzo e poi soprattutto una storia che per quanto semplice perché è quella che vediamo tutti nel trailer cioè maverick viene chiamato a allenare delle persone a preparare delle persone per una nuova missione tra questi c'è il figlio di gas gas è il suo vecchio compagno che è morto nel primo film che succederà cioè il plot è molto semplice la storia è raccontata con una sceneggiatura scritta bene pulita che non cerca di fare troppo che non cerca di esagerare quello deve fare top gun è un film anni 80 top gun maverick è un film anni 80 c'ha proprio l'impostazione di un film anni 80 i titoli di testa sono uguali al al primo top gun stesse scene aeree che atterrano su porta aeree che ripartono con il pezzo danger zone sotto che tanto ha fatto successo nel primo top gun i titoli di coda ragazzi l'immagine rimane fissa su un tramonto e scorrono i titoli come negli anni 80 e la struttura del film pur mantenendo ovviamente pur creando una struttura moderna è comunque l'impostazione anni 80 e il film funziona dall'inizio alla fine alla fine è quello che ha fatto stranger things cioè fare una roba agli 80 però portandola nel futuro in un certo senso funziona funziona non c'è niente da fare la grandezza di questo film è che innanzitutto non è un film che si vuole prendere sul serio e quindi ti vuole far divertire e te lo dice proprio apertamente nei primi momenti del film e questa è una cosa molto importante a livello di scrittura cioè di solito quando c'è il cosiddetto setup cioè quando una persona scrive un determinato prodotto deve dare immediatamente allo spettatore la chiave di volta per capire quel prodotto quindi se è un prodotto estremamente per adulti per bambini se ti devi far divertire se dovevi prendere seriamente e così via è il difetto dei film di snider per me perché ti sembra che siano mega serie poi si perdono in un bicchiere d'acqua ma soprattutto parla di un'unica tematica ed è questa la c'è molto spesso si inseguono i sensazionalismi sempre di più dobbiamo mettere dobbiamo parlare sempre di tutto l'ambiente poi parliamo che ne so della deforestazione poi mettiamoci pure la tematica razziale però mettiamoci pure che ti devo dire il problema dell'acqua che si va sono troppe con troppa roba e il film molto spesso soprattutto nell'ultimo periodo sto notando sono sempre carichi 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 di molte tematiche questo qui ne sviluppa una in maniera molto semplice e soprattutto divertente ai tutti si è di là dici passi quelle due ore che non le senti e diverti il proprio cinema veramente di intrattenimento tanto bene ragazze a guarda violetta va bene lo farò assolutamente io sono una fan di top gun e quindi questo non lo posso assolutamente perdere ho dovuto dare la priorità altri contenuti per cui se ne già things però e le sue nove ore però no no top gun cioè io lo vedo al cento per cento ma anche questo è questo film mi sono chiesto perché della lotta di tom cruise che ormai mi permetto di dire credo sia l'ultima stella di hollywood rimasta perché negli anni 80 diciamo capito c'è come è stella che non ha rider dai del retaggio anni 80 probabilmente è uno dei pochi che comunque ancora oggi al star power potente come quello degli anni 80 esatto ancora porta la gente a cinema quindi assolutamente è quello la è lui e poi mi chiedevo la sua lotta la sua continua lotta insieme ad altri sono un pochi quelli che ormai fanno questa lotta di mantenere il film al cinema il più possibile perché sapete ovviamente tom cruise ha dovuto discutere sul fatto che ormai le finestre di uscita dal cinema alla all'on video comunque allo streaming sono massimo di massimo di due mesi non 60 giorni tom cruise è riuscito a mantenere dai 90 giorni in poi che comunque una finestra corta perché so tre mesi io mi ricordo quando i film uscivano poi non demand o in piattaforma un anno dopo cioè quindi tre mesi sono veramente pochissimi lui si continuava a battere per questa cosa perché la gente deve vedere per lui top gun al cinema vedendolo al cinema e soprattutto vedendolo in imax perché ragazzi ci avete la possibilità vedetelo in imax capisci assolutamente perché è un film che va goduto al cinema perché in tv perde cioè non è che è brutto in tv diventa brutto ma perde qualcosa perché talmente spettacolare le immagini sono talmente spettacolari che in imax sono una roba che tu rimane no sono parlati nella sedia ve l'ho detto violetta se hai la possibilità guardati vi accompagno anche volete che cosa farebbe per tom cruise gianni che cosa farei per addestrarmi con tom cruise che dice è una cosa abbastanza recente pre covi di tempi di rilascio erano più lunghi si erano leggermente più lunghi ma non come al solito si i tempi di rilascio si stanno accorciando da diverso tempo ovviamente il covide come abbiamo sempre detto ha dato una ammazzata a tutto diciamo l'evoluzione che stavano avendo le sale cinematografiche e l'arrivo in piattaforma e on demand delle varie robe aveva un tempo il covi da dimezzato se non annullato completamente questi tempi di sviluppo per necessità ovvia ma andiamo avanti parliamo di un'altra notizia perché la volta scorsa abbiamo avuto in collegamento un inviato speciale proprio quello di best movie per parlarci un po del festival di can e intanto l'edizione si è conclusa sono finita il 28 maggio e i vari vincitori adesso vi diciamo un po i vincitori e abbiamo anche un piccolo orgoglio italiano allora incominciamo dicendo che il vincitore di questa edizione del festival della 75 simedizione del festival di cannes la palma d'oro va a triangle of sadness di ruben oscund che è un film fatto prodotto tra svezia germania e francia la cosa interessante è che abbiamo anche noi italiani che vinciamo il premio della giuria ex eco questo caso infatti questo premio è stato vinto da le otto montagne il film appunto italiano con produzione con belgio e francia e da io e che è una un film polacco e anche questo co prodotto comunque anche con l'italia questa edizione sembra essere stata comunque colma di film molto interessanti sono estremamente curioso soprattutto per quello di crone in belghi in particolar modo ma abbiamo anche quello un nuovo film della corea del sud che deciso to live che quel film che è avvalso anche la miglior regia e no la miglior regia si a parcia wook che è lo stesso regista dove c'è di riparare poi no parcia wook non è ciao no e all boi le giovani però vedremo sicuramente sarà un qualcosa di importante me old boy tantissimo e nulla e poi abbiamo anche invece ma il miglior il miglior attore maschile che l'ha vinto son con son co state son con ho che per broker che è un film sempre della corea del sud lui è il protagonista il papà protagonista di parasite mentre miglior personale miglior interpretazione femminile a zeir amir ebrahim che ho gli spider di ali abbasi che è quel film che ci aveva di cui ci aveva parlato proprio proprio lui che adesso mi sfogge il nome scusa chissà se ne hai azzeccato almeno una pronuncia c'è spero spero aveva detto che che era uno tra i preferiti tra i suoi esalti comunque che era uno su quelli che che pensava che giorgio via ecco giorgio chiaro scusa avete sentito è arrivata la pizza aspettiamo violetta alla faccia nostra violetta giorgio che aveva detto che questo film era uno dei suoi era era dei suoi preferiti che era molto interessante vedremo comunque molti di questi film bisogna anche vedere come verranno distribuiti in italia perché molto spesso non così particolari non vengono neanche distribuiti in anni moretti parla del festival di canna come l'ultimo vero festival del mondo del cinema no lui ha sempre questa cosa che per lui il festival del cinema è uno solo e del festival di canna la la particolarità del festival di canna che è un festival che io onestamente non seguo lo dico chiaramente senza nessun problema alla particolarità che c'è un tipo di cinema molto particolare la cosa più importante in realtà cioè per cui il festival è ancora famosissimo conosciuto e seguitissimo è a parte il il film che apre canna che la maggior parte delle volte un blockbuster quest'anno è stato appunto top gun con la parata con gli aerei eccetera è stato un anno ecco poi la trotta mi sono dimenticato di dirla giorgio c'è stato un anno che c'era the expendable che aveva aperto e c'erano sulla croissette erano arrivati carri armati e si si la stallone schwarzenegger tutta sagge di quasi arrivati coi carri armati e quindi a parte quel film lì che diciamo loro prendono sempre un film molto diciamo un blockbuster diciamo così per aprire il festival poi tutto il resto è tutta roba che è arrivata è arrivata la fissa la mancino alla faccia nostra alla faccia nostra non ti sentiamo violetta ho detto infatti adesso la mangio proprio mentre facciamo la live ricordiamo come si chiama si chiama pizza e cinema esatto che lo show dove mentre io e gianni aspettiamo la pizza violetta se la marcia dicendo poi chiediamo pure a violetta cosa ne pensi a gianni quindi c'è è un festival che difficilmente seguo perché molte volte le cose che vincono che vengono presentate a can non le vediamo cioè non abbiamo minimamente la possibilità di vederle se non dobbiamo aspettare in questi casi negli ultimi anni possiamo aspettare che magari finiscono in piattaforma da qualche parte che la maggior parte delle volte la distribuzione in italia di questi film non c'è esatto e seguire un festival che fa vedere diciamo che parla di una serie di pellicole che poi non hai possibilità di vedere a me mi ha sempre fatto incazzare quindi per questo non l'ho mai seguito veramente can cioè è importante ma la cosa più importante di can in realtà il mercato cioè quello che nessuno vede quello che gestiscono solo le produzioni vanno lì c'è comprano e vendono film a livello europeo e il mercato più importante che ci possa essere è comunque a un mercato del cinema importantissimo anche a livello mondiale non solo europeo per il resto è una vetrina per pochi ecco guarda io che sono i francesi sanno fare tacci cosa dirti una cosa can è un po forse il luogo della sperimentazione del cinema mi sento di dire ricordo che questo lo studio dall'università quindi non l'ho vissuto però mi diceva il mio professore che praticamente molto spesso a can vengono affidati per la promozione del festival stesso dei piccoli progettini ad alcuni registi ammazza guarda film in vendia si quasi tutti i festival sanno un piccolo mercato quello di canna il più importante è molto spesso quindi stavo dicendo vengono commissionati prova dei registi importanti determinate clip particolari e sperimentali e se si fa sempre questa domanda secondo voi dove andrà il cinema da oggi in poi non mi ricordo quale regista mi forse mi sembra so denberg non vorrei dire una pesceria invece questo piccolo sport da 22 minuti dove si era messo tutta una serie di copro quindi erano i copro attorno a lui e per dire che il fatto che probabilmente per lui il cinema sarà sempre di più qualcosa che smote berg è uno che gira pure due cellulari a me non a caso in ogni se ti posso dire la mia secondo me il festival almeno a mio modesto parere più interessante è diventato venezia perché quel giusto compromesso tra un festival estremamente autoriale dove vengono presentati film d'autori molti film perché vengono presa da venezia poi finiscono proprio agli oscar ma comunque a quella nota commerciale che è proprio difficile non riuscire a trovare qualcosa che viene presentato a venezia l'ottanta per cento dei film che vengono presentati al concorso di venezia poi alla fine effettivamente escono in sala e anzi molto spesso la maggior parte vanno proprio agli oscar a cannes è un po più difficile vedremo questo coreano probabilmente finirà come miglior film per l'edizione degli oscar poi dovremmo vedere ma tutti gli altri che ci sono stati la vedo un po si non li vedi mai non so tu cosa ne pensi del festival di canna violetta una roba che segui non segui ma in realtà siccome i festival del film i film che si vengono presentati al festival di canna sono molto blindati in un certo senso lo seguo relativamente nel senso che poi non c'è parte magari riconoscere qualche nome fondamentalmente non so di che di che si parla grandi linee quindi magari li apprezzo nel momento in cui cominciano a essere distribuiti e quindi cominciano a dire questo film ha vinto fatto a canna allora magari lì penso però questo me lo spizzo perché comunque si è passato per canna e probabilmente sarà interessante quindi sì secondo me sì venezia è un ottimo festival forse io ancora vivo nell'illusione che proprio il festival di canna sia il festival del cinema per eccellenza quindi dove ci sono proprio la creme della creme diciamo come dice dicevo mentre tu stai via che c'è moretti che dice che il festival di venezia è l'ultimo grande festival del mondo del cinema per lui cioè se lui deve andare da qualche parte con i suoi film vuole andare a canna come c'è per esempio in europa c'abbiamo pure il festival di berlino che è anche importante per quanto riguarda il mercato solo che sta qualche gradino indietro perché a berlino ci arrivano cose che veramente poi nessuno conosce nessuno vede non escono nessuna parte però anche quello che si dice che è donato nel nuovo film di garrone lo sapevamo già abbiamo avuto diverse foto di quello che era il set del del film di garrone che l'anno prossimo verrà presentato a si pensa si spera sia selezionato va bene andiamo ad un'altra notizia questa è una notizia che mi ha incuriosito particolarmente parliamo di maestro in un prossimo film originale netflix con bradley cooper protagonista che riguarderà la vita di un celebre compositore ovvero leonard benstein considerato uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi che per i più diciamoci diciamocelo così perché poi dire il più grande come di tutti i tempi ok per noi morricone forse un po forse leggermente maggiore credo poi sicuramente non lo so ma lui è comunque il compositore della colonna sonora di west high story classico quindi back west high story è stato lui il il compositore e la cosa bella di queste foto è che hanno fatto quello che purtroppo fanno molto spesso in america c'è un eccessivo make up infatti ve lo sapete da violetta che cosa ne pensava c'è una foto dove praticamente bradley cooper è veramente irriconoscibile anche se devo dire che è fatto diciamo che di base è molto irriconoscibile ma qua quasi vede che lui devi prendere l'ultima foto giù poi ok cella ancora gli hanno tipo appiccicato un po de naso finto c'è l'attore ancora c'è dentro non è disturbante l'altra io non se quando devono fare questa foto e quando devono fare la sua versione invecchiata il problema condivido io gianni faccio io faccio lui vecchio questa 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 sì 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 ce l'ho ce l'ho è fatto ok questa qui naturalmente per voi che aspettate il podcast andare in descrizione guardatevi la foto che è veramente interessato vecchissimo con mega plastica in faccia che se lo vedete dice ma dite ma è veramente bradley cooper aspetta un attimo l'unica cosa l'unica cosa devo dire non so magari non sono le sue braccia le sue mani magari hanno fatto un compo un insieme come si dice magari non sono le sue perché se devo guardare le mani e le braccia ho detto non è impressionante il make up sembra estremamente realistico ma forse non sono le sue mani e le sue braccia diciamo se devo perché se devo guardare il viso io il make up lo vedo c'è 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 un bel make up prostetico che non si amalgama alla perfezione con con il viso si scusate c'è il cane che ormai me l'avete fatto impazzire con la pizza perché adesso lui la vuole e quindi sfida dagli una fetta di pizza ma figurati così schiatta al massimo di crosta di crosta no comunque a me allora io credo che siano le sue mani truccate e ti dico questo perché non è una foto diciamo ufficiale per la presentazione ma penso che sia più quello scatto sai di un determinato frame che sia con ripreso quindi non credo che ci siano stati dei veri e propri tocchi tant'è che penso che comunque un minimo di CGI per la faccia mi auguro l'applicheranno perché ci sono alcune cose che mi fanno storcere un po il naso a livello proprio di anche le espressioni proprio facciali le rughe si vede che un po' una maschera ecco diciamo così secca di plastica infatti io spero che non ci sarà l'effetto tammy fai che non so se mamma mia madonna però lì forse era a livelli un po to match nel senso che l'app anche dalle foto vedevi proprio che dicevi ma che quasi ma noi siamo sicuri che c'è del make up qui ma fatti sulle mani e sulle braccia e cioè se il make up è una cosa incredibile lico violetta perché non vorrei che è questo gli occhi sono morto ma esiste la foto del tipo però no no lui è Bradley cooper gli occhi si vede se guardi sono gli occhi vede che è lui la bocca che è la scuola ecco violetta c'è il ringhio del microfono si è sicura sì sì ti lo faccio vedere ti faccio ti metto la foto originale aspetta io sto zoomando è la foto quella la sto zona di metto la foto del vero compositore ah sì sì capito eccola qua tirami su tirami su regalatemi un secondo vai vai perché se non la smette più di a mangiare così si comunque non so io a vederlo così cioè a vederlo così non mi sembra un make up fatto male e vabbè che si nota che bradley cooper sotto una quantità di capito le labbra guarda bene però non mi sembra un make up fatto male ma infatti quello che ci dà violetta dell'altra volta era un make up fatto male non d'accordo infatti non mi sembra male cioè poi non so ragazzi in chat che date un'occhiata ora mi dispiace per chi sta vedendo il podcast ragazzi in descrizione il podcast c'è la foto ragazzi in chat che state guardando un'occhiata lo zoomata parecchio non lo so a me non mi pare fatta male vedremo io voglio vederla in movimento la parte degli occhi sinceramente è un po non lo so è quella che mi inquieta di più a me le labbra sono un po' inquietanti per me vede che sono finte guarda la guarda bene le labbra proprio si vede che saluto colore un po particolare a chi vediamo come dire mio mi fa subito tammy pay però vedremo già molto curioso comunque sia sperando che sia trucco e non quella minchia digitale che fanno adesso per ringiovenire invecchiare le persone comunque in ogni caso questo film uscirà su netflix non è stata rilasciata ancora una data di uscita però sono molto molto interessato deve essere nel 2023 tra l'altro vicino a bradley cooper che dirige pure il film oltre a interpretarlo quindi la sua seconda prova da regista dopo star is born ci saranno anche chieri mulligan che è fantastica probabilmente di recente donna promettente ma una donna promettente ma un capolavoro per quanto mi riguarda quindi si l'avrete sicuramente vista o in una donna promettente oppure l'avrete vista magari un film più popolare che ha fatto è il grande gatsby quello di bass lorman e poi ci saranno anche matt bomber che invece ha fatto la serie white collar ma comunque è popolare anche nei prodotti di ryan marty e poi maya of ovvero la figlia di tanok e uma thurman che abbiamo visto in questi giorni sempre più e sempre più come la madre ed è più bella no è più bella della madre a me c'è tantissimo a sua madre perché comunque c'è quel mix madre padre perché ce lo vedo anche un po itano che l'uomo è un bellissimo un uomo unitano che ha fatto proprio un mix perfetto perché lei è magari anche molto giovane adesso è però anche questo viso molto con i tratti molto delicati uma thurman è un po più severa diciamo nei tratti bellissima anche lei però un po più invece lei c'ha quella dolcezza di tanok negli occhi non lo so c'è qualcosa di lui che nel complesso l'è veramente bellissima proprio ci piace ma è arrivato il momento di parlare di pizze e non di pizze che si mangiano ma di pizze date la storia di della pizza agli oscar di smith a chris rock non è ancora finito comunque ancora non è decaduta nel dimenticatoio in particolar modo abbiamo una notizia molto interessante perché riguarda già da pink e smith che è lei che finalmente ha deciso di parlarne in una web series facebook che si chiama red apple talk in realtà già aveva accennato un impatto di questa cosa sempre su questa piattaforma ma questa volta praticamente proprio aperto questa puntata dicendo questa cosa qui perché era una puntata dedicata al tema della lopecia e in particolar modo visto che lei ne soffre di questa malattia ha parlato di quello che era successo proprio agli oscar e ha detto testualmente queste parole quanto alla notte degli oscar la mia più grande speranza è che questi due uomini intelligenti talentuosi abbiano la possibilità di risolvere quanto è accaduto di guarire le loro ferite di parlarsi e riconciliarsi la situazione in cui si trova il mondo ci dice che servono gesti di questo tipo abbiamo bisogno tutti gli uni degli altri più che mai ma con gesti di questo tipo intendeva lo schiaffo abbiamo bisogno e lo sai che non è scoperto di conciliazione sì sì io penso che ti riferisci a fare a fare pace però non si sa mai sì comunque voglio dire prima la cosa ha fatto un discorso in realtà molto giusto di base è stato un errore lo ha dichiarato e la cosa importante che si riesca a risolvere questa situazione in maniera pacifica e e si possano appunto riconciliare quindi in realtà è stata molto tra virgolette molto molto tranquilla e serena mi sarei aspettato che avesse parlato un po più del suo punto di vista di quella situazione visto che anche dai video era un po strana questa dinamica però a quanto pare quello che ha giustamente anche probabilmente le persone che le stanno attorno i social media manager così via l'hanno suggerito è sentivi che devono papà c'è questi va bene così ma anche perché la non è di tanto un suo punto di vista un cello secondo me invece lei ce l'ha e come perché non puoi non averlo è che non puoi dirlo cioè lei in una situazione molto delicata che pare che a casa sua lei non si è fatta un'idea però c'è calcola che se dice mio marito ha fatto bene no è un casino se dice vabbè dai ma alla fine quella di chris rock era una battuta al tempo stesso va contro di sé e contro tutte le persone che soffrono della sua stessa problematica e quindi va ad avallare qualcosa di spiacevole perciò secondo me l'unica cosa che può fare è dire sono due ragazzi intelligenti pace capito che c'è che deve di poi sicuramente a casa sua avrà detto al marito sei un coglione oppure gli avrà detto bravo ti ho addestrato bene capito secondo me non lo sapremo mai ma secondo me gli ha detto sei un coglione ma questo no ma perché per esempio quando poi gli hanno chiesto del divorzio le risponde fino ad allora io e will continueremo a fare ciò che abbiamo fatto negli altri 20 28 anni cioè cercare di capire come mandare avanti quella cosa che definiamo vita insieme cioè non mi sembra proprio una risposta di una persona che tiene tantissimo alla sua vita insieme tra le righe cercherò di continuare a tollerare questo coglione vicino mi spona tanto di questa roba qui cioè vabbè e ce l'ho sta qua stanno insieme fino a quando non riusciamo di divorziare monosoporto cioè non lo so suona tanto di questa roba qua poi non lo so si è parlato spesso ovviamente della loro relazione nell'ultimo tempo no io per esempio non sapevo l'ho scoperto che a quanto pare lei l'ha tradito e lui lo sai non ho detto pubblicamente pubblicamente tipo questo il mio fidanzato una cosa del giorno ha detto io l'ho tradito ma lui ha l'ho tradito perché sapeva che io la trascurata e quindi c'è stato questo gesto insomma non è deriva nella relazione diciamo che non è una coppia che vive di rose e fiori ecco diciamo così ma a proposito di coppia che non vivono di gianni che sto dando l'assist dicevo la coppia che non viene di rose e fiori chissà che fine faranno quello era ma vediamo una coppia che finì ha fatto invece perché si è concluso la puntata più lunga di un giorno in pretura mai fatta nella storia almeno il processo tra amere del johnny death e johnny death signore e signori ha vinto ha vinto la causa la causa contro amber che veniva appunto accusata di aver diffamato suo ex marito e è stata condannata la herd nonostante la richiesta di degli avvocati di johnny death forse di 50 milioni di dollari e no in realtà no sono stati erano scalati perché due in realtà glieli deve dare lui a lei e quindi diciamo che gli hanno segnalato la pena ecco e no sono 10 milioni e 350 mila dollari più ci stanno altri 35 milioni c'erano di cui due che hanno scalato e no no sì di questi c'erano 10 milioni di risarcimento danni e 5 milioni di danni punitivi di questi 5 milioni sono stati tolti praticamente quasi tutti e sono rimasti 350 mila dollari quindi per un totale di 10 milioni e 350 miliore però c'erano due che tipo lui deve a lei perché una parte non ha vinto ha vinto tutto e quindi le scalavano a lei diciamo è il processo fra i vari answer yes answer yes che era un continuo non so se avete seguito johnny death ha dimostrato questo questo quest'altro si johnny death ha dimostrato questo 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 sì c'è stato un no o forse due no una cosa del genere 12 ce ne sono stati in generale quindi diciamo che ha vinto su tutta la linea come ci suol dire i messi comunque il processo l'ha vinto lui diciamo che sulla carta poi questo processo a livello umano per me n'ha vinto nessuno ma soprattutto livello di opinione pubblica che schifo guarda la reazione umana delle persone sui social è stata una cosa disgustosa che io sicuramente non è che è una cosa che adesso cioè secondo me sono queste cose sono sempre esistite queste reazioni solo che adesso le vediamo perché i social le diffondono capito i social li diffondono e ne hanno e ai social hanno fatto una cronaca oltre al fatto che questa roba andava su youtube e chi ci ha avuto il tempo ci ha avuto voglia se l'ha visto proprio tutto quanto però poi uscivano le battutine i meme le cose le cazzate cioè è uscito l'inferno su sta roba sì 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 ma una serie di scuovere ci sta fan documentario su sta roba che forse già già esiste esistono due puntate non so se ne faranno altre c'è tipo la parte di amber e la parte di johnny sono due puntate dedicate a uno e l'altro però volevo dire quest'ultima cosa in realtà come ogni processo americano non è così facile la condanna perché non è solamente amber che dovrà pagare 10 milioni e 350 mila dollari a johnny depp ma è anche johnny depp che dovrà pagare 2 milioni di dollari senza danni punitivi alla erdo immagino quello stavo dicendo questi modelli degli sconto di dollari meno 2 il problema è che l'avvocato di lei dice che lei stisordi in ce l'ha o infatti andiamo all'altra notizia un po ma ho fatto ridere e praticamente è amber herd non può pagare cioè non è una cosa che dovrebbe sorprendere amber herd non è un'attrice con una carriera milionaria alle spalle purtroppo per lei in questa situazione quindi ci credo facile che non ce l'assi soldi non infatti c'è il l'avvocato che ha detto testualmente amber herd non può assolutamente pagare questa cifra e la speranza è di un processo d'appello che possa ribaltare la condanna detta ma tra l'altro adesso io non capisco ovviamente non è la mia materia l'avvocatura la giurisprudenza eccetera però leggevo le parole della bredoft che è la l'avvocata di herd e lei diceva che c'è stata un influenza suo dire da anche da parte della dell'opinione pubblica sulla giuria perché diceva abbiamo avuto anche dieci giorni di pausa non c'è modo per cui non sono stati influenzati i giurati ovviamente sì è stato orribile io ero contrario alle telecamere nel corso del processo lo ha reso uno zoo che lo ha reso uno zoo è vero e herd ha detto sono stata demonizzata questa anche una realtà che è stata demonizzata perché andata oltre il giudizio questa cosa è andata proprio oltre quindi in questo modo concordo da una parte dall'altra perché anche dall'altra parte c'è stata qualche figuretta di merda però effettivamente secondo me il team legale di herd era rispetto a quello di forse è stato quello a decidere la causa questo non lo so però erano c'è io qualche clipettina qualche cosa l'ho vista facevano ridere purtroppo era secondo era veramente non mi permetto di dire impreparato è una parola forte però comunque sicuramente non preparato quanto il team di diretto onestamente perché poi questo tipo di cause si basano tutte soprattutto quando c'è la giuria sul convincere una giuria quindi è una guerra tra avvocati in realtà più che una vera e propria guerra tra tra le parti diciamo tra gli attori in questo caso in sé è più un l'avvocato che riesce meglio a raccontare meglio la storia capito quindi secondo me da quello che leggevo sull'articolo che ci ha girato tu Gianni forse questa avvocata punta a sfruttare il fatto che è diventato un circo uno zoo che herd è stata demonizzata e tutte le conseguenze che adesso ci saranno per magari riuscire non a ribaltare la sentenza però riuscire in qualche modo a trovare una via d'uscita per scamotage qualcosa perché ovviamente herd adesso si trova in una posizione che di vittimizzazione da parte dell'opinione pubblica e da parte del di tutto il circo mediatico che è stato quindi lei potrebbe avere degli appigli in questo senso e provare forse non contro giorni stesso però in generale contro il sistema diciamo in un certo infatti infatti la mia domanda in questo caso è visto che tu non puoi pagare che fai ridenunci la stessa persona o è un problema che devi risolvere con il sistema penale americano questo non lo so però sicuramente c'è un'idea di muoversi in quella direzione e quindi quasi quasi forse questo processo non quello che c'è stato ma quello mediatico potrebbe che che la demonizzata così tanto potrebbe addirittura adesso ritorcersi contro a chi l'ha messo in atto ovvero un milione di persone e darle un appiglio per riuscire a uscirne in maniera che lei riesca ad tamponare diciamo il denaro che è recuperare del denaro in qualche altro modo per pagare la sentenza con me adesso va a fare qualche intervista in giro e li recupera i soldi e comunque sarà richiamato da si però comunque adesso lei è tipo la donna più odiata di hollywood perché il discorso è che con lei si è andati proprio oltre a prescindere da lo ha fatto non lo ha fatto cosa ha fatto cosa non ha fatto che in merito a quello in realtà poi al cento non lo sapremo mai sapremo mai esatto oltre a quello è stata proprio una questione che lei è diventata una sorta di capro espiatorio per tutta una serie di pregiudizi e frustrazioni che vanno oltre il fatto che lei in quanto donna potrebbe aver mentito su determinati argomenti capito c'è proprio un sorpassare è stata proprio una cosa leggevo un attivista scriveva punirne una per punirle tutte in un certo senso quindi lo scriveva nel senso che la situazione le sembrava punirle tutti a livello chiaramente stiamo parlando non della sentenza che c'è stata ma sto parlando del processo del processo mediatico ok quindi quindi rispondo tutto quindi addirittura magari lei si potrà appellare proprio a questo chi lo sa poi ripeto è la mia opinione da barre perché non sono un avvocato quindi magari no però è quello che suggerisce brent post off stessa diciamo chissà ci sta provando secondo me ci provano c'è proprio il salvabile a recuperare qualcosa anche perché rivediamo le stisordi in cielo in qualche modo gli deve dare non so quali sono i tempi ma mi pare che i tempi sono quelli che l'hanno detto durante la sentenza se non ricordo male il tempo che lei ha per per pagare se non ricordo qualcuno che ma se non paga vicine regione non lo so come va a finire non ho la più validità di come finiscono queste cose si dovrebbe fare una ricerca non so se addirittura johnny depp potrebbe dire non li voglio sempre per dire cioè potrebbe rifiutare dubito che lui lo rifiuterebbe perché comunque lui a tu dici per la cosa questa cosa perché non ho abbastanza informazioni per ora a livello collaborativo quello che ho capito che intendi però non non so fare una stima in questo senso quindi boh perché c'è sia la stima di dep che la stima di herd sono due stime che fanno degli esperti e io vi dico ok perché c'è io che cazzo da ignoranti lui sicuramente ha perso dei contratti molto più grossi di quelli che potrebbe aver perso lei questo si no meno api dei caraibi ovvero pure che i lati dei caraibi per esempio un po più complicata la questione perché pirati dei caraibi in realtà lui non è che era proprio previsto previsto in realtà lui sì mezzo che ci poteva sta però non è che sarebbe stata la star dei nuovi pirati dei caraibi è un po più roma da la situazione animali fantastici sì quello era per il processo col col the sun però che lui comunque li ha perso purtroppo quindi lì e poi la carriera di johnny depp effettivamente nell'ultimo decennio era già in recessione quindi questa questa cosa del processo nel processo questa cosa delle problematiche con la colla ex moglie sono stati proprio diciamo il colpo di grazia però diciamo che lui già ci aveva messo parecchio del suo non è che era all'apice del successo gli hanno tagliato le gambe arrancava e gli hanno dato il colpo di grazia definitivo in qualche modo io penso che lui adesso che ha vinto magari potrebbe anche tornare no visto l'amore che il pubblico ha per lui potrebbe tornare anche a lavorare parecchio e infatti questo volevo dire secondo te secondo te anche gianni lancio questa domanda io questa roba paradossalmente potrebbe essere un rilancio per giorni tempo non non voglio dire la pietra tombale la pietra tombale della carriera di amber heard anche se però secondo me lo sarà per lei se non cambiano se non cambiano le come dire le atmosfere non è la parola che volevo usare però se non cambia sì il clima della dell'opinione pubblica su di lei ma chi la chiama adesso amber heard sinceramente perché la vedo anche io e io non so neanche come faranno con acqua man a questo infatti fra l'altro ti stavo per dire fra l'altro non ti nascondo che sto ancora aspettando una dichiarazione da parte di warner ma già girato abbiamo visto l'altra volta che ha girato quindi chiuse le dirà io però vi ricordo che per tutti i soldi del mondo di ridley scott hanno rigirato tutte le scene con che vi spesi con un altro attore però lì però ed era un film intero non erano tre scene sì però la situazione forse era diversa con che i pesi sì 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 però però quello lì con che hai spesi chi era la produzione per curiosità non mi ricordo perché warner mi sembra più incline a parte quello che ha fatto con animali fantastici però mi sembra più però lì come dire è stato da un film all'altro non avevano già girato ok invece warner che ne so flash enzra miller confermato che ormai è così è stessa cosa l'hanno già girato però ci sono poche scene con lei per tutti i versi che le toglieranno definitivamente tutti i soldi del mondo è un film molto particolare perché la parte che avrebbe fatto che vi spesi è una parte molto solitaria come posso dire cioè però però è mezzo film e l'hanno rigirato ha capito e lui è il non so che avete visto questo film è molto interessante riguardo una storia vera che è successa proprio un rapimento avvenuto a roma lui fa la parte di questo nonno del della persona rapita grazie si chiamava comunque lui fa il nonno di questa persona rapida che si trova in questa sorta di villa castello e che non ha effettivamente con nessuno una vera e propria interazione se non all'inizio con alcuni dei protagonisti però poi per il testo sì però ripeto l'hanno rigirato e ho capito però potevano permettersi di farlo come posso dirci cioè l'hanno detto se non ti possono permettere secondo te di rigirare tre scene di acqua non lo so perché la tende che a richiamare significa richiamare dopo l'angren adesso la fai sparire metti qualcun altro dai che cazzo vuole secondo me in questi anni fa fino a cinque sei anni fa ti avrei detto impossibile con quello che fanno adesso con la cci hai la cancella non mettono qualcun altro secondo me comunque è però comunque la notizia di warner è arrivata la scorsa volta ne abbiamo parlato che hanno detto che la avevano pensato di fare un recasting ma non l'hanno fatto hanno comunque mantenuto delle parti che saranno veramente che l'ha detto la warner però guarda il rischio che il rischio di boicottaggio visto l'odio che c'è verso questa persona secondo me è altissimo molto più alto di quello che aveva il tutti i soldi del mondo onestamente molto più alto anche perché appunto c'è proprio un odio viscerale ora nei confronti di questa donna e quindi è molto problematica la situazione per loro cioè per dire vittor ha già detto che tipo lo boicotta acqua man se non tolgono io non lo vedrà non lo recensirà io purtroppo sono d'accordo con lui perché andrebbe fatta e nel senso va eliminata raga e dal mio acqua men e da boicottare a prescindere però però a stupo c'è la warner deve cominciare a prendere come come sono stati velocissimi a prendere provvedimenti l'altra volta va bene che non era girato va bene che prima ancora non era girato e lì era facile e fra l'altro io ho visto il film terribile però come si chiama l'attore no l'attore no animali fantastici l'attore che ha fatto un ottimo lavoro nonostante il film sia inguardabile e il personaggio funziona di questo sono contento però ripeto ma per e no si è notte e quattro scene sostituirla con la tecnologia di adesso sono non ci vuole un cazzo vabbè ma prima di continuare a parlare di film che non ci sono tanto piaciuti volevo dirvi in aggiunto due cose perché ci abbiamo una notizia per giacomo perché già non è proprio detto ma come non vuoi dire questa notizia e dico va bene vera dico oggi sono usciti i primi tre episodi the boys e giacomo mi ha scritto meglio un giorno da butcher che 100 da dottor strange questo perché perché è arrivata la notizia che dal 22 giugno su disney plus sarà già disponibile per te giovanni che voleva di 10 giorni fa sta notizia una settimana fa che l'hanno detto stagione non è più di una settimana fa era un rumor ma è stata detta il 2 e il 2 quindi ieri è stato ufficializzato da disney plus che uscirà su disney plus appunto dottor sage nel multiverso della follia questo 22 giugno di già pagamento nel con nel compreso nel pagamento compreso nel pagamento si è un mese c'è un mese ormai è sì perché praticamente ormai è un mese e mezzo praticamente ormai disney ed è una cosa che veramente sono contento in realtà ha deciso di attuare questa politica quantomeno per i film marvel cioè di mandarli in sala per un mese e mezzo e poi subito su disney plus in esclusiva perché infatti il blu ray non si sa quando uscirà a noleggio non si sa quando uscirà uscirà esclusivamente in digitale per gli abbonati disney plus e quindi secondo me è una questa penso che sia una bella manovra di marketing almeno per quanto riguarda e appassionati marvel perché a questo punto non rischi di stare tanti mesi a guardare qualcosa che c'è a non poter guardare questo film e anzi guardi in realtà molto comodamente disney plus dopo violetta che ne pensi ok bella non lo troppo la terza volta questo neanche molto al massimo se mi rivedo mi vedo gli ultimi 20 minuti ripuliamo violetta cosa ne pensi del fatto di questo tipo di lavoro di marketing cioè un film uscito al cinema un mese e mezzo fa poi va in piattaforma visto che rimane lì fino a poi uscita on demand si voglio dire il gioco loro raga nel senso il film distribuito è roba loro il film che poi si ridistribuiscono su disney è sempre loro è il loro circo è la loro giostra e sono le loro regole fanno e disfanno tutto per quello che gli conviene a loro quindi nel senso nella loro economia evidentemente gli conviene fa così perché loro non lo stanno manco a manda su una piattaforma terza che ne so esce su sky per dire sostanzialmente sulla loro piattaforma e quindi così si so l'hanno strizzato ben bene al cinema e adesso lo ristrizzano per tutti quelli che non sono riusciti a trascinare al cinema che si fanno l'abbonamento che con 56 euro si fanno un mese di per dire di disney plus poi magari se lo disfanno questo questo abbonamento però intanto moltiplicalo per x persone quei 56 euro quanto costa intanto si sono fatte pure un'altra bella sgrullata di denaro quindi secondo me la loro economia senso perché sanno farebbero sì no e dove vedo sono prodotti veramente usa e getta quindi di conseguenza tanto vale fare così d'accordo prima di passare però volevo parlare un po di giurassic world visto che non abbiamo avuto la possibilità di vederlo in anteprima fortunati l'abbiamo visto in anteprima ok ok parliamo io volevo parlarvi di questa cosa visto che l'altra volta eravamo su questo dubbio che c'era su winnie the pew versione or strana sono persone che hanno il costume sono persone che in realtà sono veramente quindi arriva la conferma del regista ed è come aveva detto violetta sono veramente il foro che sono impazziti dopo che se ne andava come cacchio si chiama christopher robin per christopher robin e hanno persino mangiato pimpino chi era che hanno mangiato di cannibalismo ah i ho hanno dovuto sono finiti per dover mangiare chi cosa non dirai dei selvaggi ok è praticamente ha descritto questa scena dove c'è la foto è quella che circolata di più che potete trovare anche nell'articolo che trovate in descrizione voi che ascoltate il podcast di winnie the pew che sta osservando questa ragazza che sta in una piscina e dice che nella prima bozza la morte di questa donna doveva essere molto particolare cioè fu arriva dietro di lei con un grosso martello e le spacca la testa ma ora c'è questo nuovo scenario dove la legano la mettono per terra e poi pull e passa sopra la testa con una macchina era quella foto anche la foto della c'era una ragazza legata proprio letteralmente incaprettata di ragazzo tale che a questo film mega curioso sto per il giuro e questa è una di quelle cose per cui ti chiedi ma perché allora meglio che no e la risposta lo fai tra amici per fatte duri sale vabbè fai quello che cazzo ti pare ma prego violetta io sarò molto dura con questo film adesso non so se non vi prometto che lo vedrò e poi magari cambierò idea voglio essere dura adesso non me ne frega niente mi accolora la responsabilità di essere molto dura con questo film dalle foto l'altra volta mi sono tenuta perché ho detto sono dei fotogrammi però che seria dalla descrizione quindi ne avete messo nuovo sul piatto d'argento mio caro ma io la scadena di allora c'è raga questo è proprio a parte che lui deve guardare la filmografia la monnezza che ha fatto tipo renner ferretti quando si guarda indietro e se dice madonna la monnezza che ho fatto quindi già le premesse ok però quello che viene mostrato nei frame e quello che viene accostato come descrizione mi fa proprio pensare che sia il classico horror torture porn con l'eroticizzazione della brutalità del corpo femminile sulla cioè l'eroticizzazione della brutalità si sul corpo femminile che è una cosa che ovviamente a me fa cagare ve lo dico col cuore e quindi penso che questo signor rice break waterfield deve sfogare le sue frustrazioni con il sesso femminile e vi dirò di più secondo me se invece fosse a sessi invertiti l'avrebbero massacrato per misandria se fosse uscisse un film uguale in cui viene eroticizzato il corpo maschile brutalizzato tutti se avrebbero gridato la misandria perché lo hanno fatto per una donna promettente che proprio è la cosa più lontana dalla misandria che possa esistere invece queste cose sono sempre state il torture porn sul corpo femminile è sempre stata una cosa molto normalizzata è una cosa che mi sta sul cazzo ovviamente io sono d'accordo con te ma credo che questo concetto non arrivi a nessuno semplicemente perché ci si ferma tutti sul fatto che c'è winnie the book attivo che è un personaggio dei bambini bla 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 che fa delle cose è il classico tizio che dice giochiamo con questi personaggi che sono personaggi per i bambini e poi mettiamoci un po di tette perché è bello perché mi piace perché mi diverte basta questo sapizzeranno come in un milione di film il corpo femminile è usato sempre a uso e consumo di queste rappresentazioni lo dicevamo anche in batman invece con quanto erano stati nonostante c'è una tra le vittime ce neanche c'è anche una donna come erano stati invece bravi a ribaltare questo cliché questo stereotipo facendola vedere in maniera molto fugace invece molto spesso nei thriller negli horror anche quelli meno cazzone di questo perché questo mi pare che voglia essere anche abbastanza cazzone tra proprio in generale anche nei thriller che si prendono più sul serio molto spesso viene usato il corpo femminile martoriato come immagine per scioccare come immagine per impietosire o per dare il la al protagonista per il suo narrativo no anche un po questa cosa anche un po in stranger things fanno molto pure col corpo però se vedi ogni volta che riferisci ogni volta che loro fate faccio un po di spoiler però è ripetito alla prima puntata quindi non dovremmo essere troppo nella prima puntata amore una ragazza cheerleader e se vedi ogni volta che loro si ritrovano a diciamo in questa zona del sottosopra tenda vale troppi nome senza dire troppe cose vedono come unico cadavere di quella situazione lì sempre lei non è vero vedo ma anche il ragazzo non è vero più equilibrata la situazione che due vittime su tre sono uomini tra l'altro è però mi pare che è soprattutto più permettimi ti dirò di più due su tre vittime sono uomini e quei due uomini sono trattati in maniera estremamente bidimensionale rispetto alla cheerleader che invece è questa dimensionale è scritta molto meglio invece il secondo non vi dico chi è è già scritto in maniera molto più stringata è proprio funzionale al personaggio di nancy e basta è una funzione terzo non sai manco perché viene ammazzato praticamente quindi proprio maltrattatissimo perciò in questo caso ti dico non ci trovo questa malizia diciamo anche perché stranger things ti dirò loro sono molto furbi molto intelligenti e stanno molto attenti alla rappresentazione dei personaggi soprattutto perché loro parlano a un pubblico che non siamo noi cioè sì noi per strascico perché gli anni 80 bello tutto eccetera però è un team drama loro parlano alle generazioni di oggi quindi sono molto attenti alle cose a cui sono molto attenti le generazioni solo fanno questo loro lo fanno lo fanno tanto comunque di giovani chiudere volevo lasciare giusto un attimo la sezione news dicendovi che giurassi corde che è uscito ieri praticamente sta incassando tantissimo sta andando veramente molto bene in italia brevemente senza fare spoiler io vi posso dire che è impossibile fare spoiler va bene è un film che mi ha molto deluso lo ritenuto un primo molto figro e soprattutto mi è distruggito tantissimo che abbiano mancato la cosa più interessante di questo giurassi corte cioè il dominio e i dinosauri sono più un contorno qui ed è posso dire una cosa che adesso mi ritorna in mente tutto quello che avete detto fuori da che mi avete raccontato spoiler fuori dalla live e mi è venuto in mente un link assurdo proprio con giurassi pari ma è previsto che si vedano dei dinosauri è un mio amico che era all'anteprima con noi che poi l'ho saputo dopo perché ho letto ho visto l'articolo che lui scrive la recensione apre la recensione con questa frase ragazzi giurassic world il dominio da oggi oggi due no si da oggi al cinema già sta incassando un sacco di no da ieri sera al cinema non da oggi oggi è tre da ieri al cinema incassato un sacco dei sordi chiude la trilogia si spera cioè chiude la nuova trilogia no di giurassic world pare della chiusura del mondo giurassico chissà se ne faranno ancora dopo il settore di victor non lo boicotta questo però si è espresso in maniera abbastanza decisiva è purtroppo un film molto del tanto molti punti di vista tutto il montaggio è un po criminale senza vediamo i trailer però dai parliamo del trailer di questa di questo di quest'oggi il vero proprio trailer evento di questo oggi è naturalmente il trailer di pinocchio allora è già alle sue polemiche già è infatti ha già le sue polemiche io vi dico che da quello che ho visto non mi ha fatto impazzire in generale la scelta di fare tutto è ma la scelta di fare tutto un'altra volta in seggi ai non mi hanno mi fa impazzire però nonostante ciò geppetto l'ho reputato un bella una bella scelta in generale proprio a livello di casting e mi è piaciuta molto la fata turchina che è lei è una cantante che anche la voce che sentite durante il e naturalmente sono già imperversate le polemiche voi che cosa ne pensate in generale del trailer mi è piaciuto che io non è purtroppo è stata criticata è stato criticato il fatto che hanno scelto un'attrice di colore per fare la fata turchina invece bella bionda eccetera e così via fantastico ok non sono interessanti allora queste polemiche non fare neanche spendersi due parole quando ho letto pinocchio teaser trailer e già polemica mi sono detto che cazzo è successo c'è l'unica cosa di cui in questo trailer mi sono detto però pinocchio non me lo fanno vede perché pinocchio non si vede qua no nel trailer si vede la foto no sì sì ma nel trailer diciamo non si vede si intravede si vede geppetto si vede che appunto è tom hanks si vede la fata turchina e in un'inquadratura con la fata turchina si vede vagamente una quinta della testa di pinocchio che sembra proprio il classico pinocchio il classico concept art del pinocchio della disney neppure nemmeno c'è proprio quello in cgi però non si vede io mi aspettavo quello cioè cazzo non si vede pinocchio vede che un film di zemeckis secondo me puzza de zemeckis si vede tanto che puzza de zemeckis io mi chiedo solo dopo il flop omicidiale di streghe è il flop omicidiale di benvenuti a darwin perché ok però ha flopato in maniera pazzesca chissà se serviva proprio la favola di pinocchio a ritirare su zemeckis secondo me cioè non lo so come sarà da quello che ho visto finora mi sembra proprio una pupazzata per i cazzini con questa esterica ultra americana che nel cartone animato stava bene ma tradotta in maniera così letterale in un relativamente live action perché poi appunto è tutta seggi ai una pupazzata per bambini come avevano fatto rilie il vagabondo capito quindi andrà bene per un pubblico di bimbi proprio e bimbi a cui si ripropone diciamo il classico disney che noi abbiamo fruito da bambini anche noi a una generazione così com'è preso e appiccicato quindi secondo me è proprio un'operazione che si fa che noi non dobbiamo neanche non possiamo guardare con il nostro occhio è un'operazione che dobbiamo vedere secondo me per quello che probabilmente vuole essere fare un film per bambini mettere in produzione un film per bambini e riproponendo un grande classico così i genitori sono più contenti di portarli al cinema se esce al cinema non va direttamente con questo solo so che paga l'abbonamento è va dire va direttamente a un demand questo sarà esclusiva quindi il vagabondo capito fa parte di quello stock di film lì c'è io onestamente visto che è casualmente sono c'è anche guglielmo del toro in produzione per una roba per netflix sono molto più curioso per quello la probabilmente sarà più rivolto a un pubblico diverso capito questa è la classica pupazzata disney io mi ricordo noi io vi dico solo questa cosa al baby shower di benedì in realtà la scoperta c'è la fila la figlia di adriano che ha cinque sei anni ma di vita no quattro anni quanto da quattro anni alice mi diceva proprio questa cosa qui diceva è perché lei in realtà guarda solo i cartoni le piacciono solo i cartoni in animazione 3d c'è in quelli hanno in anima vendere anche un altro sincero di tante però aspetta 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 però aspetta capisci dove voglio arrivare io ha detto quelli in animazione due di abbiamo fatti vedere ma nessuno l'ha presa così tanto bene questa cosa qui quindi va a riflettere molto sul perché facciano questo tipo di iniziativa la disney perché noi vecchietti che abbiamo vissuto tutte le fasi della disney da quella di animazione un po più così a quell'animazione un po più particolare del re leone fino all'animazione 3d ce li guardiamo tutti in maniera indiscriminata ma le nuove generazioni probabilmente non riescono ad approcciarsi in maniera come posso dirti lineare come la nostra nella tecnica di animazione tradizionale quindi la disney ha bisogno di fare questo tipo di film perché probabilmente margherita amerà molto di più il re leone live action cioè lei ama molto di più il re leone live action che il re leone cartone animato che non riesce a guardare capisco ma infatti vedi c'è perché è molto piccola poi quando fanno qualche capito ma il cartone sono rimolti ai molto piccoli ma per sì sì certo perché giustamente come giurassic world noi bambini vanno al celiporti al cinema vedono il dinosauro gigante che ruggisce all'essere umano piccolino e poi se la storia nel film è assolutamente inesistente non gli interessa perché tanto non la seguono proprio cioè vedono quella roba lì stessa cosa cioè per i bambini vedono il cartone animato vedono quello che gli piace più addirittura adriano raccontava che è carino studiare la figlia di adriano raccontava che gli è piaciuto molto red e io non ho visto ma per quanto ne so tratta dei temi un po più adolescenziali se non ho capito male giusto diciamo bambini delle medie preadolescenti minimamente in target margherita non è minimamente target per quella roba perché però guarda l'animazione sono molto bravi perché l'animazione disney fa così parla più livelli e stratificata quindi ha parlato a me che sono dell'87 io c'è red sono impazzita come se fossi tornata a 13 anni proprio impazzita questo film e vedi parla anche una bambina di questa generazione molto più piccola della generazione futura praticamente perché comunque a vari livelli sia di lettura che anche proprio di coinvolgimento nell'animazione quindi io ci credo che è una bimba che è nata e cresciuta vedendo prevalentemente film in animazione 3d poi magari no le sembra strano guardare cioè questa cosa è successa anche a noi diciamocelo sinceramente anche noi quando ha cominciato sono arrivate è cominciata arrivare l'animazione 3d abbiamo fatto ma che è sta roba poi c'è stata pixar che ci ha conquistato diciamo però era solo lei secondo me è normale proprio una questione di abitudine capito sì per me quando si è piccoli e più quello che vedi poi da più grande anche quello che ti dicono infatti alice ci raccontava che perché io da vecchietto gli state facendo vedere robin hood la spada nella roccia non tutti questi grandi classici e mi rispondono hanno detto che i genitori di alice stanno gli stanno facendo vedere tutti questi classici ma non la prendono particolarmente cioè sui bambini nipoti i nipoti di martina principalmente vengono molto più attratti da la roba in 3d ma probabilmente anche una questione di quanto si è affinato il linguaggio di questi film rivolto ai bambini proprio linguaggio visivo quindi probabilmente è molto più coinvolgente perché si è evoluto rispetto a quello che magari era per noi avevamo solo quello e quindi per noi era molto coinvolgente quello loro hanno una evoluzione dell'evoluzione dell'evoluzione quindi anche nelle tecniche di animazione sono diventati iper coinvolgenti quindi farle vedere un film di 50 anni fa 60 anni fa magari esatto per lei è un po come tornare indietro anche se è molto piccola lo avverte perché è proprio una questione no cimica però capito proprio una questione a pelle diciamo è parlato della figlia di margherita di margherita la figlia di margherita l'alice ma abbiamo presa come esempio per tutti i bambini piccoli no certo ma io infatti volevo chiedere dicendo questa cosa io ne vedo tanto mamma e gianni ci lascia ragazzi andiamo avanti no gianni scusami è bella nella campione detto questo è già con bari a casa che lui questa sera quindi voi che ascoltate il podcast se volete vedere gli altri trailer tra questi ci abbiamo anche il trailer italiano del nuovo film di nicolas cage quello il talento di mister c che purtroppo ve lo dico solamente in streaming va andato in descrizione e trovate tutti ieri mai giovani vero violetta non segue stretta andare al cinema no no ma lo vediamo questo lo vediamo solo ricordarvi le uscite della settimana c'è marcel di jasmine trinca in uscita un film drammatico wild nights with emily dickinson che è una commedia un film storico di madeleine madeleine all neck black partenope un thriller di alessandro giglio quindi un film italiano gianni smitti a queste cazzo in uscita ieri giurassic world del dominio di colin trevorov il raccomandato la doppia vita e sito perché è raccomandato per forza probabilmente raccomandato assini e spilberg e questa la cosa che mi distrugge l'anima o da frank marshall ma è per forza raccomandato non c'è altra spiegazione la doppia vita di madeleine collins un drammatico thriller di antoine baro e poi lo chiamavano trinità del 1970 riesce al cinema vedi che bello sarà rivisto sarà rifatto sarà la pellicola proprio del 1971 che riesce al cinema 70 71 chi lo sa fatto sta che il re di altrimenti ieri ho scoperto che il remake di altrimenti ci arrabbiamo scusate se lo tiro fuori ma dove lo chiamavano trinità mi è venuto in mente il remake di altrimenti ci arrabbiamo al cinema pizza e cinema il podcast in cui mentre aspettiamo la pizza parliamo di cinema e serie tv grazie a tutti